Anche perché c'è il pubblico, magari l'anno scorso qualcuno di loro ancora non capiva l'ambiente di Avellino L'ambiente di Avellino è questo, l'ambiente di Avellino è caldo, l'ambiente di Avellino i tifosi non è che pretendono però se l'anno scorso sono arrivati a pre-off è normale che pretendono qualcosa in più però io penso che, ripeto, ma non per difendere di Somma che è stato il mio ex capitano però lui ha preso dei giocatori, per me validi, per quello che sto vedendo io magari saprà lui se ancora oggi mancherà qualcosa o in attacco al centrocampo lui lo saprà meglio di me, però per me l'Avellino adesso è una squadra che può fare bene Stiamo andando già oltre, il calcio è una cosa che si fa oggi il momento non è dei migliori, quindi in questo momento va fatto tutto nel modo giusto cioè va ponderato tutto e bisogna prendere anche quella piccola mollica che ti può far fare il salto di qualità poi dalla grafica alla difesa comunque è una cosa buona che sta funzionando bene quindi questo è già un punto favorevole bisogna un attimino che il centrocampo e l'attacco inizia a prendere un po' di fiducia e forse quello che manca oltre ai ruoli ci manca proprio un leader in questo momento che prende la squadra per le mani e la guida un attimino verso la positività è un attimino verso la possibilità